L'ipnosi è uno strumento straordinario per comunicare con la parte più profonda di noi stessi, quella che chiamiamo inconscio. Riscoprire che siamo veramente, accedendo alle nostre potenzialità più nascoste, ci permette di trovare soluzioni autentiche ai problemi che affrontiamo. Questa docu-serie racconta un viaggio unico che si svolge attraverso l'ipnosi. Parlare di viaggio non è una semplice metafora, poiché l'ipnosi è un vero e proprio percorso all'interno di noi stessi, un'immersione nel profondo dell'anima. In questo cammino l'operatore ci accompagna rendendo il percorso piacevole e permettendoci di iniziare con una guida sicura per poi proseguire autonomamente. La fase iniziale di guida non significa dirigere la vita di qualcuno dall'esterno, tutt'altro. Essa si basa sulla conoscenza dell'operatore riguardo ai condizionamenti e meccanismi che spesso impediscono alla maggior parte delle persone di guardarsi dentro. Paure, dolori e pensieri limitanti possono restringere la nostra visione, costringendoci a cercare soluzioni attraverso un unico punto di vista. Questi video sono il resoconto di un viaggio che ognuno di noi può compiere all'interno della propria psiche o anima, come la chiamava Freud. In realtà il racconto di un percorso che l'operatore e il cliente compiono insieme sullo stesso piano, osservando, ascoltando, percependo e gustando ogni esperienza. Quando uno dei due non comprende qualcosa lo chiede all'altro e insieme esplorano nuove comprensioni. Non si tratta di trasformare il compagno di viaggio in ciò che non è, ma di aiutarlo a riscoprire chi è realmente. Questa serie è dedicata a tutti coloro che desiderano comprendere le ragioni profonde delle cose, che vogliono capire come funziona la mente inconscia e come si svolgono i nostri processi emotivi. Conoscere noi stessi attraverso un linguaggio che parla direttamente alla nostra parte più profonda, è un modo per riappropriarci della nostra anima perduta, di ciò che siamo e siamo sempre stati, ma che spesso non abbiamo avuto il coraggio e l'opportunità di far emergere. È un processo a volte lento, ma inarrestabile, di conoscenza e comprensione delle nostre potenzialità latenti. È un modo per semplificare la vita, liberandoci da ciò che non ci serve più e riscoprendo ciò che davvero amiamo, ciò che è rimasto nascosto in fondo a un cassetto di cui, col tempo, avevamo persino dimenticato l'esistenza. Questo documentario si propone di recuperare il linguaggio analogico che il nostro inconscio utilizza per sognare e vivere le proprie emozioni. Recuperare questo linguaggio diventa anche una via di cura e di trasformazione personale.